Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto SBO- Alla vecchia di Dramanese e grazie siamo tornati qui con un nuovo video, con un nuovo pack opening finalmente Perché oggi ci sono i pacchetti speciali, ci sono i pacchetti da 25.000 e come sempre noi perché vi stiamo preparando i pack opening per quando partiremo Apriremo soltanto 10 in questo episodio e 10 nel prossimo Quindi faremo 250 di pacchetti più altri 250 di 7,5 e poi nel prossimo episodio faremo 250 di 10 pacchetti più altri 250 di pacchetti di 7,5 Perciò qui non lo apro ma parto con questo Acab e Acab ovviamente Tag life Davide Alaba ce lo dà Oh Prodl Oh Prodl da quel giorno che ho detto non l'avevo mai trovato Lo stiamo trovando sempre Poi ovviamente c'è lui, c'è il mafioso Ma c'è Gonzalo, 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 Gonzalo Gonzalo, 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 Gonzalo Mojà Mojà, Mojà, Mojà Davide Alaba, Davide Alaba, Davide Alaba, Davide Alaba, Davide Alaba, Davide Alaba Davide Alaba E adesso Tiki Daga, andiamo dal servizio con le nostre Buccino Girls Howard, Howard 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Mandzukic Che cazzo di pacchetto ragazzi Che pacchetto Questo qua non l'ho mai visto neanche dal vivo Questa è una lagonista di un film Lo salta E c'è E c'è sempre lui Lo spacciatore russo-turco Oh 25.000 25.000 25.000 25.000 Cazzo Non c'è niente Runei Riberi non so perché l'ho flashato Con dobbia Jeffrey Certo però Io non ci posso credere C'è con dobbia che se fosse andato a giocare in Inghilterra Adesso sarebbe Adesso sarebbe Gli 85 Sì Dato che è venuto all'Inter Ma con dobbia È un gran giocatore Veramente troppo forte E 85 A me sti razzismi Mi danno proprio al cazzo Che cazzo Solo perché sono nero No solo perché sto in Serie A È vero Tanaka Mamma mia questo quanto è buggato Ho detto Tatanka Tanaka Poi c'è Starche Perché noi siamo Agab Siamo BAM Brabley Toronto FC Insieme a Joe Vico Da Toronto E 25 mila in house Un altro pacchetto Da 25 con David Alaba C'è Ci sarà C'è C'è Lui C'è Snyder Che qualche anno fa valeva parecchio Ma adesso non vale più In realtà è sempre più forte Di tutti i centrocampisti che abbiamo In Serie A Mels Fernandao Gabbiadini Aneco I soldi Aneco 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 Addio Paletta Che di questi tempi la paletta serve Adesso Griezmann in the house Sbam Ates Questo è uno che non crede Mesh 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 Starche Hai rotto il cazzo Tony Stark Teneria Anna Mandalo Bravie Mandalo Ciao Bernatti Gnadele 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 In realtà si è francese tipo Gnadele Gnadele Hanno pagato pure parecchio Ooooooooh Ci sta Ooooooooh The young Un pacchetto omaggio Grazie Grazie A cab Perché Perché mi stanno sul cazzo gli omaggio Dai sono quelli normali da 5.000 Che fanno schifo al cazzo Oh 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 Bye Adio Lanz Che stai mai Aguilas dorate Aguilas dorate Aguilas Le acuile dorate Ma io con l'acuile però lo sai che c'è bazzico morto E' più quei rubi Quei uque Quei uque Quei uque Questa sembra una danza africana Quei uque Quei uque Quei uque Ma ecco qua io mi chiedo come ti vengono in mente queste cose Vai apri il pacchetto special Ma mo diti Lo special pack Da 4 miliardi Ooooo Albiol buffo 나 udah do Peter Ma tu i di Cioè Ma pure ma tu i di Io ho pensiero Ehehe Ehi Ehi! Eniyama! Ibrahimi! Aua! E' vero non vale da niente? No Porco dana che schifo Che schifo 87 di overroll E non vale una minchia Vale 8000 Com'è stato terminato questo gioco? Cioè adesso se non trovi Ronaldo Non fai soldi in questo gioco No, Ronaldo o Messi Si, dole Messi te lo bannano Ma,Tui D! Beh giusto Un pacchetto 25mila Incredibile Il mio ultimo pacchetto da 25mila e poi non tue da lui ChrisBan Turbentmaxinovich Koscielnin E' vaffanculo Ouubits change Ultimo da 25 per questo episodio dai dai che ci stanno pure gli if Vander, Rocco, Montoya e Porta Royce come faccio a credere a Royce ma quando hai chiesto se fosse Royce ma che cazzo ooooh si Gursone che pare Ronaldo e oggi purtroppo non siamo riusciti a trovare nessuno sta cosa mi sta cominciando a irritare aspetta che abbiamo trovato? più forte? Lam che vale 7000 8000 ragazzi lasciamo un like di incoraggiamento e soprattutto questo like vuol dire petizione contro la EA per far mettere i giocatori dentro i pacchetti perché se ti danno i pacchetti Euro Premium è inutile quindi un like equivale EA dammi un giocatore e speriamo che riusciremo a trovare qualcuno nel prossimo episodio che registreremo in questo momento quindi bella ciao